Domani nuovamente in campo nel torneo di Serie B di Fuzzal, diciottesima giornata in programma. Ricordiamo che l'altro ieri, mercoledì 1 febbraio, i Serne e Cusmolise hanno recuperato le gare della prima giornata, rinviate per Neve. Successo netto e convincente dell'Isernia a calcio a 5 ad Ostuni con il finale di 8-0, mentre il Cusmolise ha perso 7-6 a Canosa in una gara equilibrata sino alle ultime battute. Successo anche per la vicecapolista Giovinazzo, 3-1 contro il fanalino di coda Shaolin Socher. Lotta serrata e continua al vertice, con l'Isernia che comanda con 48 punti più 3 proprio sul Giovinazzo. Domani, come detto, si gioca trasferta a Canosa per l'Isernia a calcio a 5, mentre il Giovinazzo sarà impegnato in casa contro l'atletico Cassano. È la settimana prima dello scontro diretto, infatti sabato 11 febbraio al Palla Fraraccio ci sarà il Super Big Match Isernia-Giovinazzo. Se le distanze dovessero restare inalterate, sabato prossimo sarà un vero e proprio scontro per la vittoria del campionato. Non bisogna tuttavia distogliere lo sguardo dalla gara di domani. Serve un altro successo, il dodicesimo consecutivo per mantenere la leadership in attesa proprio dei pugliesi. Trasferta fondamentale per il Cus Molise, a potenza contro la Schiaolin Socher. Serve un successo agli uomini di San Gennario per allungare la classifica e respirare un pochino rispetto alla zona play-out. Servirà una prestazione importante. I Lucani di riflesso si giocano le residue speranze di salvezza per abbandonare l'ultimo posto. Match verità anche per la Chaminade che riceve lo Stuniter, l'ultimo posto per i Campobassani che hanno bisogno di tre punti per la classifica e per il morale. Superate le prime giornate off-limits, è tempo di tornare a far punti per Pesculla e compagni. Necessario il grande apporto della tifoseria Chaminade, pronta a rientrare a pieno regime dopo le problematiche del derby contro l'Isernia.